Giuseppe Montello, podio di questo allenamento cronometrato, insomma un buon modo per incominciare la stagione Ma sì, sono sicuramente contento della prestazione, oggi mi è mancato un po' il finale, nell'ultimo giro sono rimasto un po' cotto con le gambe dure però dai, sono contento e speriamo di continuare così In quale segmento della pista invece ti sei sentito bene, dove forse hai fatto la differenza? Ma ancora non saprei dirlo, io di solito al mio punto forte sono un po' le salite e come dicevo prima, oggi purtroppo non so se ho esagerato un po' nella parte centrale della gara ma l'ultimo giro mi sono trovato un po' con le gambe molto dure però dai, alla fine la prestazione è buona, quindi sono contento Com'è stata la tua estate? Ma sono stato bene, mi sono trovato molto bene col gruppo del centro sportivo esercito e sono contento della preparazione, adesso speriamo che nelle gare si veda, ecco Una buona avventura che ti sta sempre più galvanizzando nel mondo veloce di fondo? Sì sicuramente, avevo bisogno di cambiare, di cercare di trovare nuovi stimoli e sono stato benissimo nel mondo del biathlon però per me era il momento di cambiare e sono proprio contento di averlo fatto A livello umano Giuseppe, come ti trovi qua? Mi trovo molto bene, come dicevo prima ho trovato un gruppo affiatato e di questo sono contento, mi danno una mano, mi danno un sacco di consigli e gli devo un grande grazie anche a loro Quali sarà il tuo obiettivo stagionale? È difficile dirlo per me perché sono proprio nuovo in questo ambiente quindi prendiamo le cose un passo per volta e vediamo come potrà andare Buona stagione e complimenti ancora! Grazie mille! Grazie mille!